Iniziamo ad uscirlo per favore, attenzione faceci l'oppo avanti, faceci l'oppo avanti, faceci l'oppo avanti, i carichetti avanti col feretro, l'attivo del raccoglimento, alta la banda, stoppa la banda, fermi là. Non vi accalcate, non vi accalcate, non vi accalcate sui parenti, lasciatemi stare nel loro dramma. Grazie, grazie! Mi è che ovuno! Che distanza! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!